Dobbiamo stare attenti ai Rainbow Friends in real life perché effettivamente questi ci possono catturare Guardateli là quanto sono brutti Questi sarebbero quelli in real life Vedete questa è la cosa vera Madonna che brutto Questo è Green che boh balla in un modo strano Questo è Blu con tutta la bava che schifo Questo è Purple che ha gli occhi rossi C'è addirittura gente che li dipinge e li crea questi cosi Questi Rainbow Friends Questo non era horror però volevo metterlo perché fa paura per quanto è grande Cioè è strano Cioè non è strano ragazzi Scrivetemi se voi vedete un albero così in giro Se non vi fa un pochino strano perché è letteralmente enorme Cioè poi qua c'è pure un cimitero peraltro Qua c'è una figura in camera Vediamo se riesco a vederla Ah sì avete visto? Cioè è successo qualcosa qui effettivamente Ma che cos'era? Questa è un'altra figura? Eh che brutto Cioè questo è praticamente su una montagna ma esiste veramente Cioè ma è veramente successa sta cosa? Sembra quasi reale Che cos'è questo schifo? Che cos'è questo schifo? È tipo un ragno ma Orribile che schifo Ma voi questo l'avete mai visto? Spero per voi di no Ok questa dovrebbe essere una creatura catturata in camera E guardate qua sembra tipo avete presente i dinosauri del di tanti tanti anni fa quando in realtà sono scomparsi Sembra quasi un dinosauro Ok questo è strano questo è veramente strano avete visto quel mostro? Quella era tipo una falena l'uomo falena comunque una cosa del genere guardatelo che sta lì sopra sul palazzo Ma vi immaginate trovarvelo nella vostra città? Che oh mio dio che cos'è sta roba? Che cos'è sta? Ma cos'è? Ma è tipo un mega robot che cammina? Un alieno magari potrebbe essere? Che brutto Questa è una creatura davvero inquietante Perché guardatela Sta sull'albero Sembra tipo una persona con le zampe però E le ali e peraltro vola pure Io quando mi sveglio la mattina Scusate dovevo dirlo per forza Dovevo dirlo Ok questo è un quadro che si muove da solo Cioè pratica e parla con il signore Ma adesso non è inutile farvi sentire perché tanto parla in inglese Però che inquietante Io quando 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 Si possono fare tante battute su questo effettivamente Queste sono le backrooms E vabbè so che sembra un palazzo adesso ma in realtà no Prima aveva fatto vedere anche un'altra cosa E guardate c'è stato un signore brutto là Un'altra carrellata di backrooms Guardate praticamente questo è un posto enorme Ma sembrano effettivamente esserci entrati C'è pure una scopa Quindi queste backrooms sono tenute diciamo anche in manutenzione E questo è un'altra backrooms che dice Ehi ragazzi penso di aver trovato le backrooms nella vita reale Cioè guardate qua questo coso enorme Adesso praticamente fa 3d E ci può entrare dentro grazie a google maps Inizialmente non si vede molto Però girando Si vede un mega buco enorme Ma raga ma che cos'è sta roba Un altro livello delle backrooms Ehm come vedete effettivamente questi livelli sono molto inquietanti e strani Con mille pertugi Un altro super livello molto 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 bello effettivamente questo Perché ha dei fiori e delle cose E guardate anche il prossimo che sarà ancora migliore rispetto a questo secondo me Ed è questo questo ve lo voglio far vedere bene Cioè allora qua praticamente Vedete allora va gira in su a destra a sinistra Allora decide di avvicinarsi ad una di queste finestre Guardate qua raga Guardate Cioè cos'è Ma è un livello bellissimo E però qua mi sa che ha trovato un signore Che non è tanto amichevole E mi sa che devi scappare Questi invece sono gli animali inquietanti Guardate questo cane qui Ora ditemi se voi non vi cagherete Caghereste Caghereste addosso Cioè che brutto Poi che cos'era questa cosa C'è scritto qua Bella domanda Questo sono Io quando Io quando giusto Io quando mia madre trova che mangia tutte le merendine Scusate dovevo farlo Devo farlo per forza Ok questo E la signorina è un po' nei guai Posso dirlo? Ma cos'è? Ma è una figura orribile Cioè ora praticamente la signorina vede È circondata dalle capre che continuano E poi c'è pure questa figura capresca Orribile Madonna Mi spiace signorina Qua c'è addirittura un orso che cammina Cioè questo si ribellava Voleva essere effettivamente Un essere umano evidentemente Però vabbè secondo me ovviamente è fake Cioè c'è scritto anche qua che secondo lui è fake Effettivamente potrebbe essere Io dopo ho mangiato Questa è un'immagine di creature veramente brutte Orribili direi Che corrono in modo particolare Qua effettivamente è successo qualcosa C'è un qualcuno nella galleria Che peraltro mi ricorda quella di GTA 5 Non so se sapete cosa intendo Però vabbè E chissà che magari non sia da qui che arriva la leggenda Qua c'è qualcosa nel bagno forse Ho paura di prendermi l'infarto Eh Non Eh però si è spenta la luce Non stavo capendo Qua abbiamo una signora che passa Che non dovrebbe essere qua Perché la signora stava dormendo Dice la ragazza E come è possibile Dice Bella domanda Qua c'è una figura Che si presenta molto spesso Davanti a casa loro Di questi tizi che stanno filmando Ed è sempre qua Ogni giorno E non capiscono E dicono che non riescono a prenderla Qua si che avevano indosso tantissimo Dice che No Non c'è nessuno lì dentro E guardate qua Si apre la porta Loro Terrizzi E continua ad urlare Dice che probabilmente è sua madre No Qua devo abbassare Perché potrebbe star Succendo un'altra cosa E certo Poi lancia la cosa Madonna mia Che brutta cosa Beh Questa è una figura incappucciata Molto Particolare E brutta Effettivamente Si è vista Nella foresta Questo si è avvistato Praticamente qualcosa E sta suonando il carion Questo era uno streamer Raga comunque Qua praticamente Dei tizi sono entrati Nella casa della nonna Morta Dice dove sei Mary Nonna Eh Signorina Dove sei Signorona anzi Eccola là L'avete vista Mai chiamare i morti Anche perché Non possono rispondere Giustamente Qua la ragazza Succede una cosa Veramente brutta Allora Praticamente La signora si trova E avete visto I capelli Le sono stati tirati Ovviamente Lei scappa via Guardate qua Come le tirano I capelli Cioè Assurdo Pem Cioè ma cos'era Qui effettivamente C'è qualcuno Eh Non è proprio bello Queste telecamere Che catturano tutto Durante la notte E meglio che non catturino Certe cose E se ne è andato via Ok qua Mi raccomando Se siete sensibili Non guardate Perché qua Veramente La telecamera Ha catturato Una cosa veramente Orribile Che gli è successo Alla donna Durante la notte Ehm Io quando faccio I riti satanici Scusate Dovevo farlo di nuovo Ma perché Era per sdrammatizzare Cioè ma guardate Che faccia brutta Che ha Ma mi scusi signora Ma lei Si è fatta la skin care Oh La skin care si deve fare Se no Risulta così Non va bene Si deve fare la skin care No comunque A parte gli scherzi Veramente spaventoso Cioè avete visto Che brutta cosa Qua si muovono Come al solito Le cose da sole Non si sa effettivamente Perché succede questo E questo che si muove Vabbè Mi sa che Qua hanno mosso loro Mi stavo un attimo Chiedendo ma what Qui praticamente C'è il bambino Che suona Interessante Molto bravo Ehm Non è bello Non è bello Madonna che ansia Comunque qua Praticamente Ci sono cose strane Continuano a cadere cose Come vedete Qua c'è E una brutta figura Probabilmente Allora praticamente Qua c'è il signore Che dice Che si sono mosse Queste cose Prima Ehm Dice che Ehi Sta parlando col fantasma Quindi dice Ehi per favore Puoi spostare Nuovo queste cose E inizialmente Non sembra che succeda Assolutamente niente Tipo per tutta la durata Del video Però Avete visto Qua è successo Effettivamente qualcosa E si sono mosse Eeeh Spero che non mi succeda mai Qua invece Si muovono davvero Le cose Si apre la porta Qua cadono Gli oggetti Mi pare Qui Esatto Madonna mia Che brutta cosa Vi immaginate Madonna Cioè io raga Non Io probabilmente Morirei di infarto In questa situazione E boom È caduta E poi dopo Succede Anche un'altra cosa E veramente Cioè Non 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 so cosa dire Cioè È inquietante È solo che È inquietante Posso dire Cioè E spero che sia fake Non lo so Però se è fake Spero di sì Cioè Poi le porte Che si aprono da sole Ma che cos'è Coraggio Cliccate sugli altri video Qui intorno Beh più o meno Non so adesso dove Forse qui No qui Cliccateci